Francesca Di Maolo, presidente dell'Istituto Serafico di Assisi, potrebbe essere la candidata giusta e unitaria per il Movimento 5 Stelle, PD e Mondo Civico dell'Umbria. Abbiamo dato la notizia per primi oggi pomeriggio, subito dopo che da fonti confidenziali era arrivata la segnalazione. L'accordo sembrerebbe sia stato raggiunto con il benestare di tutti, ci sarebbe anche l'ok del terzo polo. C'è chi dice che il capo politico dei pentastellati, Luigi Di Maio, oggi ad Assisi per il cortile di Francesco, abbia fatto visita all'avvocato Di Maolo. La presidente del Serafico è ancora indecisa, visti gli impegni che ha con la struttura, che di fatto è una sua creatura. L'annuncio ufficiale pare sia imminente, anche perché, come si sa, la piattaforma Russo dei 5 Stelle ha approvato con il 60,9% il patto civico per l'Umbria.